Le preoccupazioni da parte degli oltre dieci volontari del gattile di via Bissolati sono diverse. Prima di tutto si chiedono se lo sfratto sarà immediato, dato che i sette giorni di preavviso sono già scaduti, in secondo luogo quale sarà il destino degli oltre 150 gatti presenti nella colonia felina, dato che per il momento non vi è stato alcun impegno formale da parte dell'amministrazione comunale se non l'ipotetica dislocazione della colonia in via Brescia, dove i gatti sarebbero costretti a convivere con i forti rumori causati dal passaggio dei veicoli. Penso che ci sia da lavorarci parecchio, sia a livello di mettere comunque in sicurezza i felini, ma anche per la sicurezza della città di Cremona, perché comunque ci sono due tangenziali e la via Brescia. In caso di incidente o cosa il responsabile è comunque sempre il sindaco, il comune, ne rispondono loro. Com'è il tuo stato d'animo in questo momento? La stiamo vivendo molto male, anche perché comunque già si sapeva che questo posto comunque avremmo dovuto lasciarlo, eccetera. Ma ci ha stupito il fatto che la Stauffer comunque si sia comportata come fondazione in questa maniera verso comunque un'associazione, soprattutto perché all'interno della fondazione stessa c'è comunque il sindaco Galimberti, che fa parte del CDA. Quindi un po' queste notizie ci hanno lasciato veramente basite, anche perché il dialogo, a cui siamo sempre stati aperti noi col comune, invece è venuto a mancare. Ecco, perché fondamentalmente mi viene il dubbio che il comune comunque sapesse di tutte queste manovre della Stauffer. Ad essere incredulo della mancata presa di posizione da parte dell'amministrazione comunale anche il consigliere pentastellato Luca Nolli. Ci siamo mossi già da quasi due anni ormai per la situazione di questo gattile o colonia felina, come vogliamo chiamarla, facendo una mozione nel settembre 2019 in cui impegnavamo il sindaco e la giunta, chiedevamo l'impegno del sindaco e la giunta per trovare una soluzione alternativa a questa colonia. La mozione è passata quasi all'unanimità, solo un voto ostenuto, impegnava la giunta a trovare una soluzione entro sei mesi. Sei mesi sono passati da ormai molto più di un anno, ma non è ancora stata trovata una soluzione.